buongiorno a tutti in questo in questo piccolo video presentiamo uno dei primi risultati all'interno dei lavori del Peter Cuore Resiliente, si tratta dell'analisi delle interferenze tra rischi naturali e attività produttive condotta dall'ARPA Piemonte con la nostra collaborazione e con la collaborazione di GNA per quanto riguarda l'identificazione e la localizzazione delle attività produttive. Lascio la parola quindi a Rocco Pispico dell'ARPA Piemonte che vi illustrerà brevemente i passaggi del lavoro che stiamo conducendo sull'ambiente GIS. Grazie. Buongiorno a tutti, vi illustro rapidamente quanto abbiamo realizzato per il progetto in questa fase. Quello che vedete sono le attività commerciali suddivise per tipologia, ogni colore rappresenta una classe di attività. Per ognuna di queste informazioni le abbiamo ubicate, le vediamo qui in questa porzione del territorio, le abbiamo ubicate e abbiamo calcolato, abbiamo fatto una stima della popolazione residente in un raggio in un intorno di 500 metri. Come vedete attività nei grandi centri hanno tante persone, attività distanti possono averne poche quando non addirittura nessuna e anche questa è una fase su cui stiamo lavorando. Abbiamo incrociato queste informazioni con lo strato informativo della pericolosità di alluvione, tutti i punti che vedete con un quadratino blu di sfondo in qualche modo ricadono in un'area in qualche modo determinata come alluvionabile. Alcune attività non lo sono, infatti lavoreremo in questi giorni per calcolare allo stesso modo se le attività ricadono in un'attività di versante. Vedete, questa sul versante verrà indicata analogamente a quanto abbiamo fatto per le aree inondabili anche verrà indicata come soggetta potenzialmente al rischio di frana. Nei prossimi giorni lavoreremo con tutto il dataset proprio per estendere questo quanto abbiamo realizzato a tutti i dati dal nostro possesso. Grazie.